Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati sul mio canale per una notizia davvero incredibile per tutti i fan di Dragon Ball. Sembra che stia per essere annunciata una nuova serie anime di Dragon Ball, in cui probabilmente vedremo delle cose pazzesche. Poiché la serie stessa non sarà il continuo di Dragon Ball Super, come tutti un po' pensavamo, quello probabilmente ci sarà, ma solo in seguito, magari fra un anno o due. Ma questa serie che sta per essere annunciata è completamente dedicata a Dragon Ball Heroes. Per chi non lo sapesse, si tratta di una sorta di gioco che è presente solo ed esclusivamente in Giappone, dedicato alle carte di Dragon Ball, in cui è possibile seguire delle storie, what if, o in generale delle storie ambientate in un mondo che non è assolutamente canonico. Infatti ci sono personaggi come un Gohan Super Saiyan di quarto livello, un Broly Super Saiyan di quarto livello, un Golden Cooler e tanti, ma tantissimi altri personaggi con trasformazioni e poteri che, nella canonicità, praticamente non esistono. Immaginate la follia di un'intera serie dedicata a Dragon Ball Heroes. Vedremo magari degli episodi di anime o, in generale, dei corti, chiamateli come volete, di solito vengono chiamati OAV. Quindi questa serie probabilmente non sarà canonica, poiché Dragon Ball Heroes è una sorta di grandissimo mondo dedicato proprio ai fan. C'è molto, ma molto fanservice, quindi è tutto creato per far contenti i fan. Ragazzi, io davvero non vedo l'ora, perché una serie bella, tamarra, con trasformazioni incredibili, ci voleva e come. Per ora, purtroppo, sappiamo davvero pochissimo, poiché l'annuncio ufficiale non c'è stato, ma se volete che io continui ad aggiornarvi su tutte le novità di questa nuova serie anime di Dragon Ball Heroes, lasciate un like adesso, superiamo ora almeno i 5000 like, dovete farvi sentire davvero. Non dimentichiamoci però una cosa molto importante, Dragon Ball Super non è finito qui, poiché dovrebbe esserci un continuo, sempre con gli anime, di sicuro continuerà con il manga e poi, verso fine anno, in Giappone, uscirà il nuovo film di Dragon Ball. Quindi, ragazzi, Dragon Ball è più vivo che mai, non solo in Giappone, ma anche in Italia e soprattutto sul mio canale YouTube, dove continueremo, come sempre, con tanti vuotif, tante nuove storie, ma soprattutto tanti nuovi video molto particolari, speciali, dedicati a Dragon Ball. Quindi questo era un video davvero molto breve, poiché per ora sappiamo nulla riguardo questo annuncio. Spero verrà fatto a breve, poiché per ora abbiamo solamente qualche leak che deriva direttamente da Yonku Productions. Io inizialmente non lo conoscevo, ho dato giusto un'occhiata al profilo e sembra rivelare cose che poi si confermano reali. Quindi, ragazzi, spero che anche questa volta sia così. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto cliccando qui al centro e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando qui a destra e sinistra. Io per ora vi saluto, non appena ci saranno novità vi aggiornerò. Quindi alla prossima, ciao!